ciao mi chiamo andrea di pre e sono l'avvocato per la verità ho studiato trent'anni mi sono fatto un culo tanto ho studiato trent'anni per diventare avvocato e adesso sono qui per dirti che se vuoi un mio video saluto personalizzato se vuoi videochiamarmi se vuoi un mio video che ti stimoli ti sproni che ti se vuoi un video da un vero guru non da un coglione qualsiasi che non ha mai studiato che non ha neanche che non ha nessun titolo zero titoli ma da uno che ha studiato porco dio che è un avvocato di opcane clicca lì che sono impressione porco dio e avrai un titolo qualificato porco dio